Circus l'arte che unisce i protagonisti, i ragazzi della Casa sulla Roccia e i ragazzi del centro socioeducativo dell'Associazione Aprea. Circus l'arte che unisce l'evento di promozione del progetto Insieme per il Benessere, volto a diffondere la cultura della diversità ed educare alla differenza affinché l'incontro con l'altro sia fonte di ricchezza. Spettacolo teatrale che ha lo scopo e la finalità come l'intero progetto di inclusione e quindi di superamento delle diversità o meglio diversità vista come fonte proprio di ricchezza di una persona, dello scambio di relazioni con le persone. Lo spettacolo è stato incentrato su un'innovativa lettura della diversità in cui l'altro è visto come il prolungamento di noi stessi, come la diversa faccia di una stessa medaglia. Cosa rappresenta l'altro? Cosa leggo nel suo sguardo? Questi e tanti altri interrogativi si sono posti i ragazzi della comunità terapeutica, la Casa sulla Roccia e del centro Aprea, quando hanno cominciato a lavorare. Mostrarci ad un pubblico di ragazzi è una cosa bellissima perché comunque oltre a questo ci sta anche la motivazione nel fare le cose, lo spingere ad andare avanti senza, a volte come anche nella vita ci si cade, però sia questo teatro che anche il progetto in sé che ho fatto comunque mi ha dato la forza di andare avanti e di pensare che la vita cambia.